Blitz dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera alla guida del colonnello Francesco Mortari, tre uomini fermati per verificare un camion proveniente dalla Spagna. Il fatto ricronaca all'interno del mercato ortofrutticolo di via Mangioni, dove sarebbe giunto in mattinato un gentissimo carico di droga nascosto proprio sul camion che trasportava arance provenienti dalla Spagna. Secondo indiscrezioni militari avrebbero sequestrato 200 kg di hashish. Il commissario del mercato ortofrutticolo ha dato subito la sua disponibilità e quella della struttura che si costituirà parte civile in qualsiasi provvedimento difendendo il nome dei distendisti e dei lavoratori.